Musica Musica Allora, il maestro Antonio Montinaro della Fumutu e della Piz Center Un pensiero per la Festa dello Sport 2011? Sono contento comunque che ci siano queste manifestazioni che comunque fanno in modo sì che le varie associazioni vengano a contatto una con l'altra in modo da far crescere una sana passione per lo sport, qualsiasi sia la poi la disciplina E la prima volta che il Kung Fu si presenta ai nastri di partenza della Festa dello Sport? Qui sulla zona di Pisceglie come nostra accademia sì Musica Allora Cosimo Perrucci, Guinness World Record 2010 Un'opinione su questa festa dello Sport e l'ultima sopportazione di tanti passaggi sulla zona Presso il Tumano in pomeriggio mare Noi ho voglioso di fare questa festa che mi hanno invitato con le situazioni esportive da oggi pomeriggio alle 15 Alla prossima domenica tutti E per vicende Sto provando un nuovo Guinness World Record Per risollevare una macchina di 600 kg Per 29 volte di una bruma sulle gambe Spero di riuscirci E poi il 29 giugno Sono a Madrid World Guinness Record Spero di spagnolo E poi il 27 novembre Sono in Australia A World Guinness Australia iska Otro E poi Qui Hval脯 E voi Hai Bi Hai utz Ho basically Do you miss one thing, you don't know why you waste your time